E' stato tagliato questa mattina il cedro in Piazza Moro a Battipaglia. Dopo il crollo di un ramo nel luglio scorso si sono resi necessari dei controlli che hanno interessato l'intero impianto arboricolo della piazza. Dai risultati delle analisi si è evinto che uno dei cedri necessitasse di un intervento risolutivo. Questa mattina, onde evitare crolli e altri episodi pericolosi, l'albero è stato tagliato. L'operazione è durata per diverse ore ed è stata portata avanti seguendo vari livelli. Unanime è il pensiero dei battipagliesi. Dispiace per l'albero, dicono, ma queste piante ed il verde in generale necessitano di manutenzione costante. Non poteva andare diversamente.